Avete appena sentito degli imprenditori edili e un ingegnere. Come ha sempre detto uno dei leader del movimento dei Forconi, Giuseppe Scarlata, la crisi ormai ha coinvolto tutti i settori. Quello che conta è stare uniti, non solo gli agricoltori, o solo i gestori di carburanti, o solo gli imprenditori. Occorre una lotta continua, ma soprattutto di unione di forze. Ma quello che noi abbiamo sempre cercato di fare capire ai settori produttivi è questo. Non si può fare più una guerra settoriale. Qua c'è un'economia che è completamente al collasso. Dobbiamo solo e possiamo solo tutti insieme cercare di fare capire al governo regionale e al governo nazionale quali sono le nostre esigenze. Noi in questi giorni siamo stati in Buglia, siamo stati in Basilicata, appunto per cercare di coinvolgere il più persone possibile. A gennaio non esclusa che faremo un'azione eclatante come quella dell'anno scorso, con la consapevolezza che questa volta si va a accendere una miccia che rischia di scoppiare e dove va a finire non si sa. Però purtroppo dobbiamo dire amaramente che dall'anno scorso a ora non sono arrivate nessune risposte concrete da parte della classe politica. Ora si parla del governo nazionale dimesso, si parla di nuove elezioni a livello nazionale. Allora noi non abbiamo più il tempo materiale per poter rincorrere quelli che sono i tempi della politica. Abbiamo aspettato le elezioni regionali con molta ansia. C'è un Presidente della Regione che sembra che vorrebbe muoversi per quelle che sono le nostre richieste, ma i tempi materiali non ci sono più. Dobbiamo affrettare. Per affrettare dobbiamo nuovamente innescare il meccanismo delle proteste. Le proteste qualcuno ci ha accusato a gennaio che si è fatto danno. Può anche darsi che qualche cosa di danno ci sia stato. Però il vero danno è stato l'impresa che da gennaio a oggi hanno chiuso i battenti e hanno mandato le persone a casa. Il vero danno è quello, il danno è quello che ancora succederà perché molte imprese, molti artigiani, molti commercianti chiuderanno le stracinesche e davanti a tutto questo con la scusa del debito pubblico o la scusa della crisi globale. Il debito pubblico non lo possiamo pagare noi con le nostre imprese. Il debito pubblico ci sono i responsabili che lo hanno creato e è giusto che la classe politica cominci a individuare i veri responsabili. Noi lo sappiamo chi sono ed è a quelle persone che vogliamo fare veramente, tra virgolette, la guerra. A gennaio cercheremo di limitare il danno nel territorio siciliano. Noi cercheremo di fare un'opera di tutela nei presidi per far veicolare quella che è la merce di nostra produzione. Però è chiaro che se bisogna fare una frittata bisogna rompere le uova. Le frittate con le uova sane non si possono mai fare. Allora se da parte dei cittadini c'è questa consapevolezza io credo che questa volta possiamo veramente imborci. Se poi ci ritroviamo con i cittadini che ancora preferiscono fare 5-6 ore di fila dietro ad aspettare che apra un distributore di gasolio con il terrore che si possa rimanere senza gasolio allora questi cittadini io credo che non abbiano nemmeno il diritto di potersi lamentare perché sono loro i primi responsabili di questo sistema.